Benvenuti a questa nuova puntata di Day on the Road, siamo compadre Amedeo Tocci, Sacerdote Deoniano e oggi parliamo di giovani e castità. Castità è una parola quasi sconosciuta ai giovani, cosa si intende per castità? Una parola non tanto sconosciuta ma facilmente fraintesa, perché quando parliamo di castità ci riferiamo alla condizione in cui viene vissuta la sessualità secondo il proprio stato di vita. Quindi il fraintendimento spesso consiste nel leggere la castità come astinenza sessuale, quindi quando si parla di castità si parla direttamente di astinenza sessuale, invece no, la castità fa riferimento a una dimensione più generale del vissuto della sessualità secondo il proprio stato di vita. Quindi due coniugi vivranno la castità secondo il loro stato di vita, un sacerdote secondo e un consacrato secondo il proprio stato di vita, così come i fidanzati, i laici, i celibili, i nubili, secondo il loro stato di vita. Quindi non c'è opposizione tra castità e sessualità? La castità svela il senso più profondo della sessualità appunto secondo la propria condizione. Assolutamente non c'è un'opposizione ma è lo svelamento, la rivelazione più autentica della fecondità di questa dimensione secondo lo stato di vita al quale si appartiene. Pensiamo ai fidanzati che vivono rapporti prematrimoniali, ora ci sono alcuni che hanno rapporti sessuali ma sono vicini al matrimonio, hanno in progetto di sposarsi, altri invece che lo vivono in maniera spontanea, non hanno nessuna progettualità, la loro relazione non è vissuta in vista della formazione di una famiglia. C'è una differenza tra i rapporti prematrimoniali degli uni e degli altri? Una differenza profonda perché quando parliamo di rapporti prematrimoniali dovremmo distinguere tra i rapporti prematrimoniali in senso generico e i rapporti prematrimoniali in senso stretto. I fidanzati che si muovono e sono orientati concretamente al matrimonio vivono dei rapporti propriamente prematrimoniali. Invece molti ragazzi, in quel senso, parlando dei fidanzati che si avvicinano al matrimonio, potremmo parlare, alcuni teologi parlano di rapporti pre-cerimoniali, utilizzano questo termine proprio in riferimento alla celebrazione del matrimonio. Invece noi ci riferiamo generalmente, in senso generico, a rapporti prematrimoniali per intendere tutti i rapporti che non sono inseriti e che avvengono fuori da un contesto coniugale. I rapporti che i ragazzi, anche, ahimè, giovani, dico ahimè perché ci sono delle conseguenze poi serie nel modo di intessere le relazioni e di costruire la propria identità in maniera negativa. Il fatto che vengano vissuti, anche in giovane età, dei rapporti sessuali, questi rapporti impropriamente vengono definiti rapporti prematrimoniali. Ma il matrimonio è ben lungi dall'essere preso in considerazione. C'è una maniera di vivere la sessualità come trasgressione, come gioco e questo in profonda contraddizione dei valori antropologici soggiacenti a questo incontro, a questa manifestazione di profonda unione in realtà con il coniuge. Quindi in realtà non sarebbe neanche corretto parlare di rapporti prematrimoniali se non si è neanche in mente il matrimonio, questa è l'idea, no? Assolutamente, infatti è un uso improprio, parliamo di qualcosa, diamo un carattere addirittura nobile perché già il rapporto prematrimoniale vuol dire fermo restando che c'è un impoverimento di questo dialogo, viene falsato il significato più autentico dell'incontro tra un uomo e una donna, che però nel caso dei fidanzati che si avvicinano al matrimonio rappresenta un impoverimento ma ovviamente con una gradazione diversa rispetto a chi vive quel rapporto, sconfessandone, mortificandone i significati più belli quando si vive come trasgressione, come gioco. C'è un prendere poco seriamente la propria vita e la propria identità che è profondamente legata alla dimensione psichica, carnale e spirituale. Sì, poi tra l'altro si gioca veramente con la propria vita perché si creano dei legami anche per gioco che poi è difficile sciogliere, no? Tanti fidanzati proprio perché hanno avuto rapporti prematrimoniali, anche se percepiscono che non è la persona con cui vogliono costruire una vita, hanno difficoltà a lasciarsi proprio perché si è avuto una relazione fisica che ha legato le due persone. Ma una obiezione che spesso viene fatta dai giovani rispetto a questa idea di mantenersi casti fino al matrimonio è quella di una svalutazione del corpo e il corpo fa parte di noi, noi siamo corpo, non abbiamo un corpo, no? Leggiamo nei documenti anche della Chiesa. Quindi perché questa distanza dalla corporietà, se sposarsi implica una conoscenza vera, allora bisognerebbe conoscersi anche sotto l'aspetto fisico? Ovviamente quando un ragazzo e una ragazza stabiliscono una relazione, il processo di progressiva conoscenza vede anche una progressiva conoscenza anche da un punto di vista della propria carnalità, proprio perché siamo un corpo, non è che abbiamo un corpo, tutto ciò che facciamo lo facciamo col nostro corpo, siamo un corpo che parla. Però la verità di quell'incontro della genitalità, quindi di una dimensione sessuale intesa in maniera più globale, è arricchita di tutta la verità del suo significato soltanto nel momento in cui vengono rispettate alcune dimensioni, quali quelle della totalità, c'è una donazione totale e questo ancora non si ha nel fidanzamento. C'è una dimensione di profonda unicità, scopro un'esclusività nella mia donazione all'altro. La persona che ho accanto è una persona con la quale io, che esclude altre persone. C'è una dimensione di indissolubilità e questo ancora nel fidanzamento non si verifica, perché posso liberamente decidere di lasciare la mia fidanzata o il mio fidanzato nel momento in cui mi accorgo che il Signore non ci chiama a vivere questo rapporto. Scusami, è come complicato questo quando poi c'è una gravidanza in mezzo, no? Quando poi magari una gravidanza mette in discussione questa unità dei due, perché i due magari non si rendono conto di non essere pronti a quell'atto proprio perché non sono pronti neanche a vivere la genitorialità, certo. Proprio per questo la nuova vita va accolta in un contesto che ha una stabilità, in cui c'è una donazione piena, totale, esclusiva. A volte il matrimonio, e lì c'è un altro problema, viene svilito nel suo significato perché dovrebbe, secondo una concezione, quasi dare un velo, una parvenza di bellezza, qualcosa che però è stato un po' sfigurato. E tanti matrimoni, cosiddetti riparatori, vengono poi a evidenziare, a sancire la fragilità di un rapporto con il fallimento poi spesso di questi matrimoni. Quanto è importante essere educati alla castità? Come coltivarla? Cosa suggerire ai giovani? Il problema serio è sempre la relazione con Cristo. Anche i precetti, anche i comandamenti, se non sono fondati su una relazione con Dio, se non conosco chi mi propone un cammino di vita autentica, avverto questo cammino e quindi, in questo senso, anche il comandamento di rispettare il mio corpo, di rispettare il corpo dell'altro, come un'imposizione, come qualcosa di cui non colgo il valore più profondo. Perché chi mi propone questa via di vita è uno sconosciuto. Quindi la fatica grossa che si avverte da parte di noi operatori pastorali, sacerdoti, consacrati, e di parlare di Dio a persone che Dio forse lo hanno dimenticato, lo hanno conosciuto, però vengono avvertite come realtà estrinseche alla loro vita. Quindi si può parlare, si può proporre questo cammino, invitando soprattutto a riscoprire la propria relazione con Gesù Cristo, quindi a rintessere la propria relazione col Signore Gesù, a ascoltare la parola di Dio, a intuire, a riscoprire che c'è un Signore che ama, che ha dato la vita e che ci vuole felici. La castità, in fondo, è un segreto per cogliere in pienezza la bellezza della propria vita. Bene, siamo giunti al termine di questa nostra puntata, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, ricordate di seguirci su Facebook, Twitter e YouTube. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie a tutti!